di Sankofa Gospel del Sambla e al direttore Carlo Rinaldi per averci divertito, per averci dato una serata piacevole e di raffurrata anche a Roma. Quindi proporrei ancora un meritato applauso a questa sera. Quante volte avete sentito queste parole in occasione sicuramente di raccolte fondi, relazioni del 5 per mille, di altre associazioni e fondazioni. Sicuramente vi sarete domandati se la vostra relazione realmente è andata a fare questa differenza. Non sono in grado di darmi una risposta. Quello che noi che 3 però sappiamo è che siamo l'unica associazione in Italia e purtroppo anche in Europa ad occuparci di sostenere la ricerca su questa era la malattia. E quello che noi sappiamo è che con il vostro aiuto sicuramente potete aiutarci a fare la differenza perché se non la facciamo noi non la farà nessuno. Il contributo di questa stasera è veramente devoluto per sostenere un progetto, quello dello studio sulla storia naturale della malattia, per studiarne l'evoluzione e capire quali sono i punti vulnerabili dell'evoluzione di questa malattia per poter intervenire un giorno. E speriamo anche presto con delle terapie sperimentali. Concludo con Proverbi Scout che è il motto della nostra associazione che dice la cosa più nobile che posso fare è piantare un segno, dal quale nascerà un ave che farà ora a persone che non conoscerò mai. Quella speranza che condividiate questo pensiero. Ringraziarvi tutti quanti per aver partecipato a cose numerose e fiduciose di rivedervi tutti e magari anche di più al prossimo nostro eletto. A nome di Aica 3 e mio vi auguro un buon Natale e un buon libretto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.